Quelle ONG si sono assunte l'incarico di battere il Mediterraneo e di provare a salvare più vite possibili, nel modo più realistico possibile. Noi possiamo stabilire che questo è un errore. Noi possiamo stabilire che è un errore perché bisogna impedire che i migranti arrivino in Italia. E quindi proibire all'ONG di intervenire, così come abbiamo sospeso alcune missioni umanitarie che prima erano gestite dallo Stato. Però dobbiamo avere il coraggio di dire questo, di dire che scusate non li possiamo più ricevere che affoghino o non li possiamo più ricevere che muoiano torturati nei carceri e nella Libia. Facci che dice questa obiezione che fa lui. O diciamo questo, oppure non è che possiamo pensare, ma se tu fossi stato in quel barcone, ti fossi trovato di fronte a quelli, quanti erano? 600 persone dentro un gommone con i bambini e le donne eccetera. Che facevi? Cominciavi a alzare il ditino o gli buttavi salvagente e poi li portavi? Tu, io, Toni Capuozzo, Filippo Facci, chiunque di noi sarebbe comportato esattamente come quelli dell'ONG. Perché siamo persone per bene, Greg. Per essere altrettanto chiari, allora io in questo servizio ho visto un'azione di collaborazionismo tra queste ONG che suppliscono all'azione militare dello Stato e quindi tra queste ONG e quegli schifosi, criminali, scafisti la cui vita degli eventuali ennegati non hanno in nessun modo a cuore. Quindi è una cosa che sapevamo, finalmente l'abbiamo vista, lo sapeva Frontex che sappiamo che cos'è praticamente la Guardia Costiera Europea, lo sapevano più o meno tutti che questo avviene all'interno di un quadro politico più o meno sottaciuto e arriviamo al punto che tu giustamente sollevavi e che ti fa chiedere che cosa dovremmo fare. Io l'azzardo una risposta. Noi dovremmo, secondo me, fare come fanno altre nazioni, si dice, si raccontava dell'azione che facevano in Australia, per esempio, dove si tolgono di mezzo le ONG, si fa una barriera militare che respinge e riaccompagna al confine delle acque territoriali i barconi con i migranti che il primo giorno saranno 600 e tutti gli altri giorni non saranno più 600, esattamente come è successo in Australia, in parte in Spagna, per esempio, perché persino gli africani, persino tra gli africani, correrebbe voce che andrebbero a morire. Mentre oggi che cosa sanno? Sanno che basta arrivare al confine delle acque mediterranee, non nel canale di Sicilia, basta essere fuori della Libia o della Tunisia e anche dell'Algeria, basta arrivare lì che arriva, non tutte le ONG, ma per esempio questa ONG tedesca, oppure chiunque altro li tira su, vabbè, una brutta giornata, qualche frustatina, eccetera, però poi arriviamo in Italia dove ce la caviamo e solo il 20% di noi sono dei richiedenti asilo, l'importante è arrivare in Italia. Quindi c'è la questione politica, ma è la questione politica che determina la questione umanitaria, non è che non possiamo affrontare altrimenti tutta questa questione, perché sennò stiamo impietosi. Praticamente questi fighetti di emergersi si sono autoscambiati per un organismo sovranazionale tipo ONU che su proprie valutazioni ideologico-politiche decide che più immigrati vengono, secondo il loro punto di vista in Italia, meglio è perché altrimenti, per esempio in Libia ci sono i lager, loro lo sostengono da tempo, però appunto loro fanno questa operazione di trasbordo, una sorta di agenzia a viaggi, secondo l'opinione di Gino Strada che ha dato anche dello sbirro al nostro Ministro dell'Interno, che si era permesso di diminuire in luglio e agosto gli sbarchi in Italia, però come detto prima da Capuozzo nel denunciare questi lager rinuncia emergersi a cercare di andare direttamente dove serve di più il loro aiuto, cioè per esempio in questi lager, e fanno questa attività marittima perché gli va così, almeno io il servizio l'ho visto così.